bella spark leziani oggi siamo qui per riscattare ronaldo toti speriamo in bene questo ronaldo toti porta fortuna tanto poi se volete una serie sulla ligan che facciamo delle partite lasciate like vedete io sono così sono a 12 punti vado a fare questi ora vi spiego il pezzo io ho visto che sono arrivato alle 100 a 2 la sua camera prima sono riuscito a guadagnare quelle gemme per farmi ronaldo toti quindi vediamo facciamo gli esercizi che sono quelli questi qua ok con i divertenti che sono quelli dei tiri vi consiglio raga robben robben è un giocatore di classe veramente che mi aiuterà ma anche se è un 85 normale ha un potenziamento che si sblocca dopo 30 anni io lo consiglio a molti che tiro che tiro vero ragazzi 1200 perfectly raga ultima e forse abbiamo poi ronaldo toti se no ci dobbiamo andare a vedere il video che io proprio tiri a giro tiri a giro che belli tiri a giro buggati come sempre sempre se ti portati sti tiri a giro a giro meno otti allora raga andiamo su attiti andiamo qua me le vado a ritirare tutti andiamo a ritirarci e poi sblocchiamo la il top il master scusate perché sono stato un attimo inattivo perché ho avuto dei problemi il lunedì ricominceremo tutto faremo sempre a settimana un video ho già fatto la mia routine ora vediamo un po come come fare vediamo volete ovviamente lasciate sempre se volete in continuo in questa serie ma ragazzi allora vi parlo un attimo io ora poi vado a fare 100 campesi per provare un attimo rois i stati che non lo voglio prendere perché non ne ho voglia di spiacare soldi i crediti per altri giocatori quindi non so solo io la questione se potrebbero neanche il 10 ma potrei fare 9 volta fare il 10 fare tutto ma io sono regata la non voglia di farli ma ora passiamo al momento più cruciale 256 punti io posso prendere oh my god io voglio vedere la bellezza di sta carta raga non mi fa clicca ok eccolo ronaldo toti ronaldo toti e ronaldo ruidatino oh mio dio che bestia che ha che bestia sono metti a tutti che bestia che bestia poi ho ancora uno vuole di rifarli di nuovo tutti poi arrivare a un bappè più scarso io mi fermo io no dovete decidere voi faccio il centro del peso difensore se volete no penso di fare penso difensore perché mi è capitato il più forte walker che poi lo voglio mettere nel mercato quindi penso di fare più difensore ma ora voglio farvi vedere che ce l'ho veramente non sono io sono io perché vedete ho mobizen schiaccio ora lo richiudo ora vedete avete visto io io guardo sto modulo io passo ad avere ronaldo in attacco solo che quando me lo dà ma se io lo metto delirio in campo oh è vero mi sono dimenticato mi danno questo mi danno questa roba qua che è una cosa che è gentilissima che mi danno mi danno da allenare il 95 germaxi e vabbè lo gomo toti complimenti è sblocato l'allenatore poi lo che è questo ma devo mettere tutti i titolari io non me li posso fare questi titolari perché sono quasi finiti ci ho messo tutto il tutto il mese per farli si toti guardate invece come è ridotta ora la mia squadra c'è 90 308 parliamone ho tutti i toti devo ibridarla un attimo se riesco a trovare qualcuno se faccio così vedete mi toglie l'intesa se faccio così no me la aumenta se faccio così allora spero perché perché intanto 90 30 gen da così poi c'è questa qua che puoi fare la squadra per bomber che caso che preparerò la squadra che ho costruito è questa aspetto avere la ts un altro tre mani eh concetto di velocità pagate solo che devo migliorarle in ogni o propriamente lavoro potete provare sto ronardo toti che è bellissimo guardate le sue stati guarda le sue stati cioè guardatele questo è squadra è una squadra è una squadra ora il problema che devo fare più linee è da 109 è bellissimo beh c'è il massimo che potrei fare il ma il basso è il tuo mano che non sa squadra io se volete un video con ronaldo toti in attacco lasciate minimo 4 mila 4 like lasciateli solo per lui dietro il calcio ora blocco oggetto si voglio vedere che cosa condizione potente classe tiro davanti al dibattere veloce segno anche qui e io per non vantarmi vado a mettermi il logo del dei toti perché ne ho voglia non me ne ho dato non c'ho bene si dovrò è vero quello del monce no non quella io ho quella del monce ecco bellissimo io vabbè chiudo col video ciao alla prossima buona giornata a tutti ciao